Questa è la migliore matita nera che io abbia mai provato. In realtà è anche l'unica cosa che regge all'interno del mio occhio perché dopo due secondi cola tutto via, questa invece messa una volta alla mattina arriva così perfetta fino a sera. Me l'avevate consigliata in tantissimi, finalmente vi ho ascoltato, l'ho provata e me ne sono innamorata. La mina è morbidissima, infatti state attenti quando la mettete non c'è veramente bisogno di fare pressione, scrive così da sola. È talmente intensa e un nero proprio intenso che sembra un eyeliner in gel in formato matita. Bellissima da mettere anche all'attaccatura delle ciglia proprio al posto dell'eyeliner. Se ancora non l'avevate capito sto parlando della Bombay Black di Nabla, veramente una matita eccezionale. Se cercate una matita nera che duri all'interno del vostro occhio provatela perché ne rimarrete stupiti, anzi ne approfitto per dire Nabla ci fai altri colori di questa matita perché è pazzesca? Se siete d'accordo con me scrivetemelo nei commenti oppure fatemi sapere se vorreste provarla.